Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. Apriamo parlando di un importante intervento salvavita che è stato eseguito all'ospedale San Vincenzo di Taormina. Mauro Romano ne ha parlato con il dottor Paolo Guccione. Sentiamolo. Il responsabile della cardiologia pediatrica del bambino Gesù di Roma che è in attività presso l'ospedale San Vincenzo. Ma in questi giorni si è svolta un'altra importante operazione salvavita. Cosa avete effettuato, dottore? Ci siamo trovati di fronte a un cosiddetto congenito adulto, cioè un paziente affetto da cardiopatia congenita che grazie agli interventi chirurgici effettuati in passato ha raggiunto l'età di 60 anni. Questo signore presentava condizioni piuttosto delicate da un punto di vista cardiovascolare. Soprattutto queste erano legate alla valvola polmonare che era stata impiantata circa 15 anni fa e che adesso era assolutamente in sufficienza. Non sarebbe stato in grado di affrontare un intervento di cardiochirurgia con l'apertura del torace. Abbiamo pertanto organizzato insieme al dottor Giuseppe Cennivella che è il responsabile dell'emodinamica, tra virgolette, della cardiologia degli adulti e insieme abbiamo affrontato una strategia basata su esami molto accurati come la risonanza magnetica eseguita nel nostro ospedale e abbiamo messo a punto una strategia che ci ha consentito di trattare senza chirurgia questo paziente. L'abbiamo pertanto ricoverato, l'abbiamo addormentato grazie alle cure del dottor Garnace, responsabile dell'anestesia abbiamo ottenuto condizioni stabili e attraverso i vassi del vignine abbiamo posizionato una valvola una valvola trascatetere che si è agganciata nella vecchia valvola precedentemente impiantata che era diventata completamente insufficiente. Quindi diciamo anche un intervento abbastanza innovativo L'intervento è abbastanza innovativo nel senso che la prima valvola polmonare in Italia era impiantata nel 2006 quindi l'esperienza si è accumulata e la delicatezza di questo caso consisteva non solo nell'atto tecnico del posizionare la valvola ma anche nel trattamento complessivo di questo paziente e quindi il supporto di tutti gli specialisti dell'ospedale il supporto della direzione sanitaria straordinario che ci ha consentito di pianificare in tutti i dettagli e organizzare tutti i dettagli di questa procedura è il successo, non è solo l'atto tecnico voglio dirlo, è il successo di aver creato un sistema di estrema sicurezza per effettuare questo trattamento di per sé innovativo Giardini Naxos alla scoperta di talenti canori con l'undicesimo concorso Alessandro Longo Mauro Romano ha intervistato l'organizzatrice dell'evento Sentiamola Valentina Currenti, ci troviamo nello scenario di uno splendido albergo giardinese ma cosa si sta svolgendo in questo panorama così bello, così attraente? Allora si sta svolgendo l'undicesima edizione del concorso Alessandro Longo concorso musicale che io curo ormai appunto da undici anni quest'anno mi ha dato particolarmente soddisfazione diciamo ho una doppia veste da quest'anno perché dirigo il conservatorio che ci ha sempre sostenuti ovvero il conservatorio di Nocera Terinese e Catanzaro però abbiamo aperto anche delle nuove collaborazioni che ci hanno dato tante soddisfazioni tra le quali quella con la Drum School di Enzo Augello che ha portato veramente degli studenti di altissimo livello ma anche la nuova collaborazione con il concorso Armonie Mediterranee concorso che si tiene a Tauria Nova in Calabria perché dall'anno prossimo faremo un concorso che avrà come prova finale la prova con l'orchestra proprio in collaborazione perché faremo le audizioni sia qui che a Tauria Nova appunto nella Chiesa degli Artisti e quest'anno abbiamo avuto una giuria d'eccezione la Presidente, la Professoressa Carmen Costa già direttore del Conservatorio di Vibo Valencia e Reggio la Professoressa Cettina Nicolosi, Presidente del Conservatorio di Reggio la Professoressa Grazia Barillà, Docente del Liceo Musicale di Reggio Calabria il Maestro Andrea Calabrese che è Docente di Armonia e Composizione sempre al Conservatorio di Reggio Calabria il Maestro De Fazio che è Docente di Pianoporte al Conservatorio Ciaicosco di Nocera Terinese e anche il Capodipartimento dello stesso Ci saranno dei nuovi talenti da scoprire sicuramente? Già, ne abbiamo individuati diversi perché nel contesto del pop è già stato individuato lo studente che aprirà il concerto di Arisa il 9 settembre a Tauria Nova abbiamo deciso insieme appunto al concorso Armonia Mediterranea di dare questo fantastico premio ed ha incentivato molto anche la partecipazione dei ragazzi Parliamo adesso di internet che sta pian piano scomparendo il 38% infatti dei siti web non esiste più Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita mentre si naviga online di imbattersi nel messaggio errore 404 forse cercando un vecchio forum o una notizia da un sito di informazione o di servizio nella maggior parte dei casi sono link cancellati o spostati a dimostrazione che anche internet non dura per sempre in 10 anni quasi il 40% delle pagine web non sono più accessibili un effetto decadimento digitale per cui grandi quantità di notizie stanno svanendo dall'immenso archivio della vita moderna a far emergere le informazioni un'analisi del Pew Research Center che ha raccolto campioni di quasi un milione di pagine web dal 2013 al 2023 il fenomeno è trasversale e si verifica in spazi online diversi dai collegamenti sui siti istituzionali a quelli di notizie da Wikipedia e social media secondo il centro studio americano in 10 anni è scomparso il 38% delle pagine web quasi 4 su 10 e non sono più disponibili persino le pagine più recenti per esempio l'8% di quelle esistenti nel 2023 quasi un quarto di tutti gli articoli di notizie sul web il 23% contiene almeno un collegamento morto anche sui siti più trafficati la perdita di informazioni come detto è evidente anche sui social media quasi un quinto di tutti i post su X, Lex e Twitter erano inaccessibili pochi mesi dopo la loro pubblicazione nel 60% dei casi il profilo che ha pubblicato il post è diventato privato, sospeso o cancellato del tutto dalla piattaforma in alcune lingue il fenomeno è più evidente forse per effetto della censura ad esempio oltre il 40% dei tweet scritti in turco-arabo non sono più visibili a tre mesi dalla pubblicazione la cronaca partendo dal palermitano insegnanti e personale ATA sfruttati i carabinieri hanno eseguito un sequestro beni da un milione di euro vediamo tutti i dettagli nel servizio i carabinieri della compagnia di Cefalù hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Merese su richiesta della Procura della Repubblica l'attività segue quella condotta dal medesimo comando dell'arma nello scorso mese di aprile per la quale è stata notificata la misura cautelare nei confronti di 5 persone accusate a vario titolo di estorsione e sfruttamento del lavoro all'interno di due istituti paritari di Cefalù e Termini Merese facenti capo a una cooperativa esercente attività di istruzione di secondo grado le vittime, insegnanti e personale ATA obbligate mediante minaccia oppure avvantaggiate dalla necessità di ottenere i punteggi per accedere alle graduatorie pubbliche per le successive assunzioni nonché dal loro stato di bisogno connesso alla crisi economica e occupazionale avrebbero prestato la loro attività lavorativa in difformità e in misura sproporzionata alla contrattazione nazionale se non addirittura a titolo gratuito restituendo la retribuzione formalmente ottenuta per il lavoro prestato le indagini condotte oltre a delineare il quadro investigativo sopradescritto hanno permesso di quantificare in oltre un milione di euro il danno derivante dalle violazioni in materia contrattuale tanto nei confronti delle vittime quanto dell'interesse pubblico il provvedimento ha disposto il sequestro dei conti bancari nonché dei beni immobili riconducibili alla predetta cooperativa e ai singoli indagati nella medesima circostanza il tribunale di Termini Merese ha nominato un commissario giudiziale per garantire la prosecuzione dell'attività scolastica nell'interesse degli studenti e al ripristino di una situazione di diritto all'interno dei singoli istituti parliamo ora di una maxifrode fiscale con i finanzieri di Catania che hanno eseguito 16 misure cautelari ed effettuato anche un sequestro beni da 29 milioni di euro vediamo il servizio un raffinato sistema di frode fiscale con regia unica su Catania che abusava dei vantaggi normativi in tema di distacco di personale previsti per i contratti di rete tra imprese e al centro dell'operazione alto livello del comando provinciale della Guardia di Finanza Etnea militari delle Fiamme Gialle hanno eseguito due ordinanze cautelari nei confronti di 16 persone a Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Palermo Milano, Brescia, Roma e Pesaro e sequestrato quote societarie disponibilità finanziarie e beni per 29 milioni di euro nell'inchiesta coordinata dalla DDA della Procura di Catania ci sono complessivamente 33 indagati sono oltre 140 i finanzieri del comando provinciale di Catania impegnati nell'operazione denominata Alto Livello i militari hanno eseguito due ordinanze cautelari emesse dal GIP Etneo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia che ha disposto misure personali e reali nei confronti di 16 persone i reati ipotizzati a vario titolo sono associazione a delinquere emissione di fatture per operazioni inesistenti infedele dichiarazione dei redditi dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti omesso versamento di ritenute previdenziali e di IVA autoriciclaggio e riciclaggio di denaro di origine illecita Spaccio di sostanze stupefacenti a Catania l'intervento dei carabinieri ha portato all'arresto di un pusher vediamo tutti i dettagli nel servizio Prosegue incessante l'attività di prevenzione e repressione dei reati in genere tra cui quelli connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti portata avanti dai carabinieri di Catania volte a contrastare una delle maggiori fonti di approvvigionamento della criminalità organizzata in tale contesto i militari della compagnia di Piazza Dante hanno svolto tutta una serie di mirate azioni investigative che hanno portato all'arresto di un catanese di 35 anni pregiudicato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in particolare l'attenzione degli investigatori che avevano intrapreso il servizio con auto di copertura nel centro cittadino è stata attirata da un uomo che in una piccola traversa nei pressi del centralissimo viale della Libertà appoggiato a uno scooter in sosta frugava all'interno di uno zaino l'atteggiamento palesemente sospetto il muoversi continuamente girandosi intorno con aria guardinga e in più il fatto che non sembrava assolutamente un residente della zona sono stati motivi per i quali i militari hanno deciso di seguire attentamente le sue mosse quindi posizionatisi in zona defilata gli investigatori hanno iniziato a osservare in modalità discreta tutti i movimenti dell'uomo poco dopo infatti hanno avuto la certezza che si trattasse di uno spacciatore perché lo hanno visto prendere una bustina dallo zaino e consegnarla a un passante che gli si era avvicinato in cambio di denaro a quel punto è scattato il blitz quindi i carabinieri hanno velocemente raggiunto il 35enne che a cortosi del loro arrivo ha tentato in vano la fuga visto che è stato immediatamente bloccato dopo qualche metro i militari del nucleo operativo dopo averlo messo in sicurezza lo hanno subito perquisito trovando nello zaino 11 grammi di cocaina più di 250 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish tutto già suddiviso in dosi che avrebbero fruttato circa 2500 euro nella vendita al dettaglio in tasca invece il pusher aveva nascosto una dose di crack e banconote per più di 250 euro sicuro provento dello spaccio il 35enne è stato pertanto arrestato e posto dai carabinieri a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto mentre la droga e le banconote ritrovate sono state sequestrate per il momento è tutto possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia a più tardi a più tardi